È un modello, quello siciliano, basato sulla lealtà, sulla lotta alle cricche, alle caste, ai privilegi, alla mafia ed è un modello di convergenze istituzionali. Vorrei citare Moro, quando parlò con Bellinger di convergenze parallele, che è una parola difficile sicuramente, ma tradotta in termini semplici vuol dire che si governa con coloro con i quali si è fatto un patto di governo, ma si ha la convergenza sulle cose importanti che riguardano i paesi. Allora, il problema da sapere è questo, chi sarà spento in questa fase della storia di pensare a un caos istituzionale come quello che si potrebbe induire se ognuno va per contro il suo. Allora, fissiamo gli obiettivi come abbiamo fatto in Sicilia, che sono quelli fondamentali. Se lei dovesse dare un consiglio a Bersani, da dove iniziare nel dialogo con il Movimento 5 Stelle? No al massacro sociale, revisione della spesa in termini assolutamente sociali, perché non possiamo continuare a farla pagare agli strati deboli della popolazione, abolizione dei privilegi, lotta per la trasparenza. Io credo che questi siano dei grandi temi. Per lei questi primi mesi di legislatura sono stati mesi difficili di trattativa con il Movimento 5 Stelle? Guarda, io non ho fatto nessuna trattativa con nessuno. Ho proposto dei programmi e su questi abbiamo raggiunto delle convergenze. Non c'è l'inciuscio e l'inciuscio è sempre un errore politico. C'è un grande rispetto istituzionale. Io mi sono opposto, per esempio, all'inizio, quando PD e Udc volevano fare solo un accordo di sociale con PDL, che era di tipo tradizionale, ignorante il Movimento 5 Stelle. Mi sono opposto perché quello non è democratico. Allora, la prima cosa da fare è, per esempio, trovare un Presidente della Repubblica di garanzia per tutti. Io ho un nome persino, glielo posso dire? Certo. Piero Grasso. Penso che potrebbe andare bene per tutti, no?